All'Aragona risorge Lavastese, contro Lisernia i padroni di casa ritrovano i tre punti che mancavano dalla gara interna vinta con il Matelica lo scorso 6 gennaio. Grazie alle reti di Di Giacomo, Sbardella e Leonetti, ma andiamo per ordine. Nei biancorossi assenti Giampaolo per infortunio e Stivaletta per squalifica, nei molisani out l'ex di giornata Armando Iaboni. Montani cambia in difesa passando da 4 a 3 uomini, va in panchina l'ultimo arrivato in casa aragonese, Jenny Russo. Gli Sernini dal canto loro vogliono raccimolare punti salvezza dopo la vittoria di misura sul notaresco. Ad ovvio gara un minuto di raccoglimento e dedica con striscione dei tifosi della Vastese ad un supporter della curva, le prese con una dura battaglia. Giovanni lotta, combatti e vinci aragonese. Passiamo alla cronaca. Parte subito forte l'Isernia che al secondo minuto si rende pericolosa con Romano. Il numero 9 scatta in profondità sul filo del fuorigioco e con un tocco morbido tenta di scavalcare Patania. L'estremo dei biancorossi si salva con un colpo di Reni. La risposta della Vastese arriva al sesto con una conclusione di Fiore murata da Tano in angolo. Sugli sviluppi del corner, Leonetti in corna di testa dando l'illusione del gol al pubblico di casa. Dall'altro lato al minuto 10 si replica con il colpo di testa di Lenoci e la parata plastica del portiere biancorosso. Al diciassettesimo l'Avastese dopo un'azione prolungata passa in vantaggio e Di Giacomo che indovina l'angolo giusto alle spalle di Tano con una conclusione violenta e precisa che non lascia scampo all'estremo dei molisani. Da rivedere a rallenti il pregevole gesto tecnico del difensore di casa. Minuto 29, l'Avastese va vicino al raddoppio con Leonetti, la conclusione viene respinta a pochi passi dalla linea. E' questione di minuti, l'Avastese trova il raddoppio con il difensore Sbardella, il numero 6 al 32esimo, indovina l'angolo giusto con un tiro che dopo aver all'ambito il palo finisce in rete, 2-0 per i padroni di casa. L'Avastese gioca sul velluto e al 45esimo cala il tris, Nicola Fiore ruba palla e mette al centro un pallone d'oro per Vito Leonetti che da lì non può sbagliare e sigla il meritato 3-0. Si va a riposo con questo risultato. Nella ripresa la gara si addormenta, i padroni di casa gestiscono il risultato, gli ospiti attaccano ma con le idee confuse. Per vedere una conclusione degna di nota bisogna attendere il 25esimo quando Frabotta per gli ospiti ci prova da fuori e mette in difficoltà un inoperoso Patania fino a quel momento. Al 31esimo ancora Molisani in avanti, Schena lavora un bel pallone e conclude, attento l'estremo di casa che respinge. Al minuto 35 gli sforzi dei Molisani vengono premiati. Patania prova a mantenere la porta imbattuta ma non può nulla sul tocco morbido di Schena da distanza ravvicinata. I padroni di casa ballano, Schena trova il gol del 3-2 al 43esimo ma l'arbitro annulla per fuorigioco al 49esimo. Però il gol di Romano è regolare e gli ospiti sfiorano l'impresa. Dopo 5 minuti di recupero la gara termina 3-2 per i biancorossi che hanno finalmente mostrato lo smalto dei tempi migliori contro un'isernia troppo timida e non ingiornata e che solo nel finale è sembrata convinta dei propri mezzi. Mister Silva, un'isernia che era partita bene qui all'Aragona, poi la Vastese ha fatto 3 gol. Nella ripresa ci avete creduto ma solo sul finale di partita? Sì, effettivamente al primo tempo eravamo partiti molto bene con due occasioni clamorose e dopo ti ritrovi 3-0 addirittura al primo tempo, è stata dura, bella la reazione e quindi addirittura avevamo fatto 3 gol, uno ce l'ha annullato. Sì, nel finale però anche perché siamo stati bravi a non mollare. Certo, sono molto rammaricato perché non portiamo via neanche un punto dopo aver fatto tante occasioni da gol. Secondo lei il gol era regolare, quello annullato? Ma io dalla panchina non ho visto. Naturalmente i nostri dirigenti che stavano in linea dagli spogliatoi mi hanno detto che era buono perché almeno lì avevamo ancora del tempo per poter fare il 3-3, invece sul 3-2 finale c'erano veramente solo pochi secondi, non potevamo certo rimediare. E dà molto fastidio perché poi abbiamo regalato veramente due gol con delle ingenuità incredibili. Nicola Fiore, un'ottima Vastese nella prima parte di gara, un 3-0 netto, poi nella ripresa vi siete abbassati troppo? Diciamo che abbiamo fatto un gran primo tempo, siamo stati decisi, determinati. Oggi era una finale per noi e quindi l'approccio è stato ottimo. Abbiamo trovato tre gol, abbiamo anche avuto altre occasioni, siamo stati compatti, siamo stati squadra. Poi nel secondo tempo dovevamo essere più bravi nel gestire la palla perché sicuramente potevamo fare di più, potevamo trovare qualche altro gol. Poi nell'ultimo quarto d'ora siamo un po' calati perché comunque abbiamo speso. Liserni ha trovato il gol dopo, diciamo, nei minuti di recupero che ci ha messo un po' di apprezzione, però oggi quello che contava erano solo i tre punti. Una vittoria importante, dicevamo, per voi, per l'ambiente, ma anche per un tifoso che in questo momento sta combattendo una battaglia. Sì, quella è la prima cosa, chiaramente per Giovanni, questa vittoria è dedicata a lui, che speriamo riesca a superare quelli che sono i suoi problemi. Noi dobbiamo fare il nostro, quindi dobbiamo ognuno concentrarsi sul suo lavoro perché appunto è una stagione difficile, ma rimanendo compatti, uniti, possiamo superare le difficoltà e cercare appunto di fare più punti possibili a partire da domenica.